Oggi dobbiamo parlare un po'. Innanzitutto ciao ragazzi, io sono Axel e come sempre, non so quando uscirà questo video, spero in tempo, oggi siamo qui per parlare degli anime che usciranno questo inverno 2023. Gli anime sono tantissimi ma io ovviamente non vi parlerò di tutti, se siete curiosi infatti nel primo commento al video e in descrizione vi lascerò il link per andare direttamente alla MyAnimeList con tutti gli stagionali che usciranno, ma in questo video vi parlerò soltanto di quelli a cui io personalmente sono più interessato. Ho deciso di fare così sia per tempistiche, altrimenti non riuscirei veramente a farvi uscire questo video in tempo per l'inizio della stagione invernale, ma soprattutto perché io non sono veramente interessato a tutti gli anime che usciranno, ma soltanto ad una buona parte di questi e sono quelli di cui vi parlerò oggi e che seguirò in simulcast. Per il video di oggi ho deciso di inserire 12 anime che inizieranno in questa stagione e 8 anime che invece sono tutti gli effetti dei sequel e di cui vi parlerò per ultimi. Ovviamente per questi ultimi sarò molto più breve anche per non rendere il video infinitesimamente lungo, ma sarà anche privo di spoiler pesanti, quindi non preoccupatevi e anzi prendetelo come pretesto per iniziare qualcuno degli anime di cui parlerò alla fine così da potervi poi collegare con il suo sequel che uscirà tra poco. Come sempre prima di iniziare vorrei ricordarvi che questa non è una classifica degli anime che più aspetto quest'inverno e soprattutto nel corso del video potrei dire delle inesattezze, dato che nonostante il video sia realizzato a scopo informativo ho comunque cercato io stesso di evitarmi spoiler di sorta anche delle opere originali da cui provengono questi adattamenti animati, per quanto mi sia stato possibile ovviamente. Detto questo direi di non perderci in ulteriori chiacchiere ed iniziare. Non potevamo partire in nessun altro modo. Il primo anime di cui dovevo assolutamente parlarvi doveva per forza essere l'adattamento di Nier Automata, videogioco che ho amato e platinato come un forsennato perché veramente divertente, con una storia molto interessante e degli ottimi plot twist che hanno ribaltato completamente ogni mia convinzione data durante le 30 o 40 ore di gioco e poi vabbè la protagonista è letteralmente la cosa più bella mai creata ma andiamo avanti. La trama dell'adattamento animato sarà sostanzialmente quella del gioco quindi sarò molto breve. I protagonisti sono Tubi e Nienez, due androidi che sono stati creati per sconfiggere le macchine che hanno preso il controllo del pianeta e restituirlo alla razza umana, loro però sono androidi senzienti e per questo durante il corso della loro missione potrebbero farsi varie domande proprio sulla stessa ma preferisco non dire altro. Mi piacerebbe davvero tanto che deste una possibilità a questo adattamento animato ma soprattutto al videogioco che secondo me riesce ad essere interessante e coinvolgente anche in cose semplici come la crescita dei due personaggi mostrando vicende per nulla scontate in momenti molto credibili soprattutto se si smette di pensare a loro come oggetti e considerarli vivi ma vedrete, secondo me potrebbe stupirvi. Tomo-chan is a girl, e ho detto tutto. Di quest'anime ho visto soltanto il trailer e non ho letto praticamente nient'altro so solo che la doppiatrice di Momo, la protagonista, è la stessa di Megumin di Konosuba e praticamente seguirò quest'anime solo per questo scusatemi ma io Rietakashi la amo. A quanto ho capito la serie seguirà le vicende di Tomo questo maschiaccio che non sa come comportarsi in modo femminile e Junichiro, il suo amico d'infanzia con cui aveva perso i contatti e che ha sempre pensato che la sua amica Tomo fosse un ragazzo perché molto alla mano e sempre vestita con abiti maschili una volta finita il liceo i due si rincontrano e Tomo capisce di provare qualcosa per lui insomma una commedia romantica scolastica con un protagonista mezzo anonimo e dei personaggi di contorno che personalmente non mi hanno convinto granché ma capirò meglio che ne penso una volta che l'anime sarà iniziato spero solo che non risulti essere la classica commedia romantica poco interessante e piena di cliché che se avesse avuto personaggi più intelligenti si sarebbe risolta in due episodi e non in una serie intera tra l'altro l'anime sarà l'adattamento di un webmanga quindi mi aspetto che sia quanto meno valido per aver deciso di adattarlo deve essere sicuramente molto apprezzato quindi speriamo che ne valga la pena trailer che mi ha lasciato parecchio indifferente onestamente non si è visto nulla e l'unica cosa che mi ha colpito è stata la voce della protagonista femminile che è doppiata dalla stessa UA di Ichika di Quintessential Quintuplets quindi complimenti a chi le ha dato il ruolo perché almeno ha ottimo gusto la storia è praticamente quella di Takagi-san ma ambientata al liceo con però il protagonista di Kurokono Basket infatti la storia ruoterà a Torno Giunta un ragazzo che passa così tanto inosservato che i suoi compagni di classe pensano sempre che lui sia assente e l'unica a rendersi conto della sua esistenza è proprio Nagisa, la sua compagna di banco che passa il tempo a fargli dispetti e a stuzzicarlo cosa che ovviamente a lui non dispiace insomma non è nulla di innovativo e se risulterà essere soltanto quello che vi ho appena detto probabilmente lo dropperò quasi subito perché non sono un fan nemmeno di Takagi-san e vederne una sua brutta copia versione liceo non mi entusiasma particolarmente ok ne ho visto il trailer e letto la trama e le due cose mi hanno lasciato impressioni diverse il trailer mi ha fatto pensare a qualcosa di tranquillo e dolce mentre la trama ha qualcosa di divertente e stupido a quanto sembra il protagonista si chiama Amane e vive di fianco ad una ragazza che lui stesso definisce Angelo perché è molto bella e gentile la ragazza in questione è Mairu la più bella della scuola e sua vicina di casa appunto per varie vicissitudini che vedremo meglio probabilmente nei primi episodi dell'anime lei finirà per aiutare Amane nelle faccende di casa e si prenderà cura di lui poi classico delle commedie romantiche i due inizieranno a provare sentimenti l'uno per l'altra ma essendo dei liceali faranno fatica ad esprimerli vi ho rovinato la magia eh? scherzi a parte personalmente lo trovo molto intrigante soprattutto per il design della protagonista che non mi sembra per nulla originale anzi non so perché ma mi sa proprio di già visto da qualche altro anime ma nonostante questo mi piace molto e non vedo l'ora di iniziarlo perché si prospetta molto interessante e divertente uno di quelli da cui mi aspetto di più avendoci posato lo sguardo sin dall'annuncio praticamente da subito mi ha dato delle Princess Principal vibes fortissime nonostante sia per design che per trama siano due opere molto diverse ma l'idea di avere come protagonista un gruppo di ragazze con un'atmosfera di questo tipo mi ha dato quella sensazione in generale dalla trama si prospetta qualcosa di molto interessante e a quanto ho capito la protagonista centrale dovrebbe essere Lily una spia che eccelle nella teoria ma carente nella pratica che viene assegnata ad un gruppo di spie problematiche con cui dovrà collaborare per migliorarsi e fare esperienze sul campo la cosa divertente è che le ragazze oltre ad avere tutte dei design molto carini sono tutte uniche e particolari non per niente sono definite problematiche per il resto ho deciso di non approfondire oltre dato che penso che uno dei punti forti dell'opera sarà proprio conoscere queste ragazze ed impararne le varie sfaccettature sperando che vengano caratterizzate bene e non vengano presentate come macchiette 2D come già detto infatti questo è uno degli anime invernali per cui ho le aspettative più alte speriamo non mi deluda non so perché ma mi ha ricordato Wotakoi nonostante ovviamente sia dalle premesse che dal design dei personaggi sia evidente che le due opere sono molto distanti fra di loro leggendo la trama onestamente non pensavo di trovare qualcosa di così stravagante pensavo fosse tutto più normale e satirico invece mi sbagliavo e di tanto il protagonista è praticamente un ragazzo delle nevi e ogni volta che si agita mostrando i severi sentimenti scatena delle bufere attorno a lui egli ha innamorato della sua collega Fuyutsuki perché è molto calma e intelligente ma per via della sua situazione gli riesce difficile esprimere i suoi sentimenti che sono evidenti a tutti gli altri suoi colleghi eccetto alla diretta interessata per questo a quanto ho capito deciderà di farsi coraggio un passo alla volta in modo da riuscire a rivelarle i suoi sentimenti una volta per tutte insomma una commedia romantica dei toni un pelino più maturi del solito e sicuramente molto divertente con un pizzico di sovrannaturale che non guasta mai spero di cuore che non risulti essere una tresciata totale ma anzi si avvicini proprio a quella bellissima opera che ho citato poco fa e che è Wotakoi che secondo me fra le commedie romantiche di questo tipo quindi non scolastiche è una delle migliori che ci siano mi piacerebbe molto che i toni fossero simili dato che sarebbe sicuramente solo positivo anche perché onestamente negli ultimi anni non è che siano uscite chissà quante commedie romantiche originali ed interessanti vi ho già parlato di questi isekai in un altro video perché l'ho trovato molto interessante non originalissimo ma sicuramente molto più convincente della media degli isekai che stanno uscendo soprattutto perché si parla di omnioji, yokai e simili e a me queste cose piacciono molto il protagonista è Aruyoshi un omnioji potentissimo considerato il più forte della storia che dopo essere stato ucciso a seguito del tradimento di un suo compagno usa un incantesimo che gli consente di reincarnarsi in un altro mondo e finisce all'interno del corpo di un bambino carente di potere magico ma molto fine con i suoi poteri spirituali essendo in questo mondo la magia la cosa più importante verrà presto ostracizzato e deciderà di mostrare a tutti la sua grandezza usando solo i suoi veri poteri poi vabbè finirà per farsi un harem tutti lo ameranno eccetera eccetera la solita solfa praticamente eppure sono curioso di vedere se anche questa volta tutto andrà come previsto o ci sarà qualche risvolto che renderà finalmente questo isekai diverso dal solito sono molto curioso anche perché come già detto mi sono fatto qualche aspettativa per quest'opera e mi farebbe piacere non restarne deluso ma comunque vedremo uno degli anime da cui mi aspetto di più proprio per via del trailer che ha mostrato delle scene veramente interessanti e soprattutto con una protagonista con un ottimo design non sono sicuro di ciò che ne verrà fuori perché non conosco l'opera e quando in generale viene adattata una novella e non un manga essendo tutto scritto e non avendo immagini di riferimento per le scene gli animatori spesso si prendono troppe libertà che non dovrebbero quindi non sono tranquillissimo ma comunque il trailer e la trama sono riusciti a convincermi l'opera racconta la storia di Inglis un eroe che ha fondato un impero e nonostante sia sul letto di morte è estremamente orgoglioso del suo operato ma sofferente per aver vissuto una vita pensando solo al suo popolo e mai a se stesso per questo il suo riempianto di voler vivere non più per gli altri ma in modo un pelino più egoista raggiunge la sua dea protettrice che gli concede di vivere una nuova vita in un lontano futuro qui Inglis si reincarna in una bambina figlia di una famiglia nobile minore ma considerata non idoni a diventare un cavaliere vivremo quindi le vicende che porteranno Inglis a diventare un cavaliere fortissimo che vive per se stesso e che mostrerà a tutti che non è importante il sangue con cui si nasce ma piuttosto quello che si versa sul campo di battaglia e già questo a me basta per volerlo iniziare fatemi ovviamente sapere cosa ne pensate voi e se come me lo seguirete in simulcast quando uscirà voglio dare un'altra possibilità agli anime in cui il protagonista è un agricoltore perché con l'ultimo non è andata molto bene sarò molto breve perché non c'è tanto da dire di quest'anime il protagonista è Iraku un uomo di 39 anni morto di malattia che viene evocato da dio e che gli propone di mandarlo in un altro mondo per vivere una vita diversa da quella che ha vissuto sino ad ora Iraku accetta e gli chiede di poter vivere una vita tranquilla con un corpo sano e di poter fare l'agricoltore qui dopo essere stato mandato in quest'altro mondo incontrerà un sacco di waifu bellissime che gli faranno compagnia in ogni momento della sua giornata sì insomma io qui ci vedo più una richiesta d'aiuto da parte dell'autore che spera di poter incontrare tantissime waifu una volta morto perché altrimenti non si spiega speriamo solo che non mi tocchi dropparlo al primo episodio come ho già fatto ammetto di essere un tantino troppo emozionato per l'uscita di quest'anime perché ho amato sin da subito le premesse mostrate nel trailer la trovo un'opera molto interessante soprattutto per l'idea di non mandare i due protagonisti nel mondo dell'autome game in questione ma piuttosto collegarli adesso dal loro potrebbe tranquillamente risultare una trashata noiosissima o divertentissima a seconda dei gusti personali di chi lo guarda ma secondo me le premesse per renderlo un anime divertente ed intrigante ci sono tutte inoltre dovrebbe essere autoconclusivo essendo che la light novel da cui proviene l'adattamento è conclusa con due soli volumi e ho visto in giro che è stata anche accolta abbastanza bene quindi non dovrebbero esserci problemi i due protagonisti sono Endo e Kobayashi due ragazzi che giocano ad un otome game chiamato Magikoi e che si rendono conto che la cattiva del gioco l'iselotte in realtà non è tale ma è solo un'azzundere innamorata del principe e soprattutto Endo inizia a fomentarsi davanti allo schermo durante la partita non si sa il motivo ma la sua voce raggiunge il principe Seagwald che lo considera un avviso divino e si rende conto che l'iselotte in effetti è molto carina da qui i due protagonisti continueranno a giocare la partita interagendo con il mondo di Magikoi per cercare di far mettere insieme l'iselotte e Seagwald si è una premessa particolare ma mi piace che non sia la solita solfe in cui i protagonisti entrano direttamente nel gioco e soprattutto rende vivo e reale il mondo del videogioco che stanno giocando queste secondo me sono delle ottime premesse e spero di cuore che l'anime ne sfrutti appieno il potenziale il trailer mi ha dato un sacco di Yuri vibes e spero di non sbagliarmi no scherzo mi basta che sia interessante quanto sembra e non una cafonata con protagonista e stereotipo macchiette perché il rischio c'è la trama non è nulla di particolarmente elaborato e anzi sembra che siano state prese un sacco di cose da un secchio di possibili incipite e buttati insieme e nonostante questo ammetto di esserne intrigato la protagonista è Anisfia una ragazza che possiede dei ricordi riguardo una sua ipotetica altra vita e che usa per sviluppare una teoria sulla magia proprio grazie a questi ricordi un giorno a lei si unisce la principessa Eufilia una ragazza privata del suo titolo di futura regina del regno e le due si aiuteranno a vicenda nello studio della magia per permettere a quest'ultima di riottenere il suo titolo non sapendo che il loro incontro potrebbe cambiare in modo radicale gli equilibri del loro mondo insomma non ci ho capito granché ma come per la maggior parte degli altri anime inseriti in questo video cerco di non informarmi troppo per evitarmi spoiler involontari soprattutto perché questi sono tutti anime che vorrei seguire in simulcast e qualcuno di questi sicuramente lo riprenderò in seguito per parlarvene in qualche altro video parlando un attimo dei character design dei personaggi quelli delle due protagoniste mi piacciono tantissimo nonostante non siano quasi per nulla originali ma quello del principe Algard non mi piace per niente dato che mi ricorda quello di Cedric di I'm the villainous I'm taming the final boss tutto sommato l'anime comunque si prospetta interessante e spero che non deluda le mie aspettative l'ultimo anime di oggi prima di passare alla parte con i sequel ho deciso che doveva per forza essere questo essendo secondo me il jolly di questa season un anime mezzo isekai che non sono riuscito ad inquadrare benissimo ma che già solo con il trailer mi ha fatto molto ridere e che quindi penso a seguire in simulcast con il sorriso la protagonista si chiama Mitsuha una ragazza che un giorno cade da una scogliera e invece di morire finisce in un altro mondo di tipo medievale qui apprenderà di poter viaggiare fra il suo mondo e questo e data la sua natura particolare dopo aver fatto i dovuti calcoli deciderà di iniziare a conservare un totale di 80.000 monete d'oro così da avere un patrimonio sufficiente a permetterle di vivere senza nessun problema qui durante il suo viaggio per raggiungere il suo obiettivo farà diverse conoscenze e nuove esperienze che spero la porteranno a maturare e sviluppare evitando di lasciarla allo stesso personaggio dall'inizio alla fine insomma come già detto per me questo è un jolly potrebbe essere una piccola perla di questa stagione o la tracciata più grande del 2023 staremo a vedere non pensavo sarebbe arrivato il giorno in cui avrei detto oh non vedo l'ora che esca la seconda stagione di questo isekai in cui il protagonista si innamora di una gorillessa che poi diventa una waifu si fa un harem ed è pure oppia bestia e in generale era così sino a poco fa poi ho realizzato che avrei lasciato un altro isekai incompleto se non lo avessi continuato ed eccoci qua scherzi a parte la prima stagione era partita veramente male l'ho trovata ridicola sino a poco più della metà poi non so se il mio cervello si è abituato al trash oppure è decisamente migliorata nel corso degli episodi fatto sta che non vedo veramente l'ora di seguire in simulcast questa seconda stagione perché tutto sommato l'opera in generale è abbastanza divertente finalmente tornano le avventure di Ryoma in compagnia dei suoi amati slime sin dall'uscita di quest'anime praticamente il 90% degli isekai ha iniziato ad inserire gli slime all'interno delle proprie opere come se qualche autore in Giappone un giorno si sia svegliato ed abbia pensato oh ma effettivamente esistono anche gli slime shemen se a parte a me la prima stagione non è dispiaciuta affatto è un isekai molto carino senza troppe pretese è rilassante non mostra vicende chissà quanto complesse e per questo lo trovo perfetto per chi vuole guardare qualcosa con il cervello spento senza doversi mettere a seguire troppo la trama quindi si non vedo l'ora che esca ho amato la prima stagione di Inspector e soprattutto i due protagonisti perché li trovo veramente interessanti ma in generale io apprezzo sempre gli anime in cui si parla di yokai mistero e cose così ho recentemente fatto il rewatch della prima stagione perché non vedevo l'ora di poter recuperare la novel in italiano che vi consiglio è disponibile nel sito della Docuscio comunque sono molto curioso di vedere cosa la seconda stagione ci porterà e se il rapporto fra Kuro e Kotoko si sviluppi come vorrebbe quest'ultima o se alla fin fine rimarrà tutto in stallo in modo da continuare ad usare la situazione come intremezzi comici fra i due comunque se non amate la Dekotoko siete delle persone veramente orribili iniziai la prima stagione quasi per meme non ero sicuro di cosa The Rising of the Shield versione femminile avrebbe potuto dare all'animazione giapponese e invece mi sono ricreduto con il passare degli episodi Bofuri è un anime estremamente divertente e Maple la protagonista è veramente dolciotta e a parte alcune cose evitabilissime che fanno decisamente storcere il naso l'ho apprezzato tantissimo e non vedo l'ora che questa seconda stagione inizi perché sono sicuro che quest'anime ha tanto potenziale e la mia speranza è che questa nuova stagione riesca ad essere interessante quanto se non di più la precedente il mio consiglio è che se non avete mai visto quest'anime disponibile gratuitamente su youtube nel canale della Yamato dovreste dargli un'occhiata perché merita veramente tanto che dire di Bungo Stray Dogs se non lo avete ancora iniziato è ovvio che vi invito a farlo è letteralmente uno degli anime più interessanti e con i personaggi più divertenti che siano mai stati fatti la storia è ovviamente molto intrigante i personaggi hanno quasi tutti un'ottima caratterizzazione e in generale è veramente difficile trovarvi dei difetti e sì lo so sono abbastanza di parte questa quarta stagione è sicuramente un buon pretesto per me per fare il nono rewatch della serie così da arrivare freschissimo per i nuovi eventi che coinvolgeranno i nostri amati protagonisti e soprattutto quel figo di Dazai sì insomma ve lo ripeto guardate Bungo Stray Dogs perché non ve ne pentirete assolutamente lo ammetto aspetto questa seconda stagione di Tokyo Revengers solo e soltanto perché ho già letto questa parte nel manga e mi è piaciuta molto ma ammetto anche di essere rimasto molto deluso dall'anime che soprattutto nelle battute finali della prima stagione ha mostrato un calo di qualità nelle animazioni non indifferente che non mi è piaciuto tantissimo secondo me si poteva fare di più e invece proprio nelle parti più interessanti la qualità è andata via via scemando e non posso che dirmi dell'uso di questo infatti spero che in questa seconda stagione facciano meglio anche perché questo arco sarà uno dei più interessanti di tutta l'opera che parlandoci chiaro più va avanti e più sembra la solita minestra riscaldata che sicuramente a molti sarà piaciuto ma a me non ha fatto impazzire togliamoci finalmente il dente so che non tutti hanno apprezzato l'anime di Nagatoro e so benissimo che non è che sia chissà che capolavoro anche del genere soprattutto perché obiettivamente negli ultimi 2-3 anni sono usciti una serie di adattamenti animati di opere quasi fatte a stampino ma personalmente non vedo comunque l'ora che esca questa seconda stagione perché la prima l'ho trovata molto divertente e con un pizzico di fanservice al punto giusto so benissimo che è tutto molto surreale ma le vicende mostrate nell'opera riescono comunque ad essere divertenti e a me personalmente il personaggio di Nagatoro non dispiace anzi forse è proprio lei a tenere vivo l'interesse e anche solo per questo secondo me la seconda stagione meriterà di essere vista vorrei chiudere questo immenso video di oggi con uno degli anime che più ho apprezzato alla sua uscita The Misfit of The Monkey Academy oggi è veramente uno dei tanti soprattutto l'ultimo anno ne sono usciti un sacco di anime simili con il protagonista che si reincarna nel futuro e innesca delle romance si fa dei seguaci eccetera eccetera ma questo secondo me è sempre stato il più interessante fra i tanti proprio per via dell'ottimo protagonista che è Anos un personaggio che soprattutto all'inizio si mostra veramente per quello che è ovvero il signore dei demoni mi è piaciuto sin da subito e ho perso il conto dei rewatch che ho fatto nel tempo quindi è ovvio che aspetti con hype questa seconda stagione e non veda finalmente l'ora di avere fra le mani le nuove vicende del signore dei demoni più potente che ci sia siamo finalmente giunti alla fine di questo interminabile video è stato veramente lungo e complesso realizzarlo dato che si è parlato di tantissimi anime ma spero che vi sia stato utile e soprattutto che vi sia piaciuto fatemi ovviamente sapere se video di questo tipo vi piacciono e se li vorreste ogni stagione perché a me fa sempre tanto piacere farli e soprattutto lo trovo un modo per liberare la mia parlantina ovviamente come sempre se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace per supportare il canale e a condividerlo con i vostri amici così da fargli scoprire alcuni nuovi anime che usciranno da gennaio 2023 e che potrebbero interessarli e soprattutto non dimenticate di iscrivervi nel caso non lo siate così da non perdervi anche i prossimi video che usciranno perché ne sto preparando qualcuno di veramente interessante vi ricordo anche di seguirmi su Instagram per non perdervi eventuali aggiornamenti relativi al canale e direi che per questo video è tutto noi come sempre ci sentiamo alla prossima grazie a tutti grazie a tutti